Anteprima della puntata di Polifemo di venerdì 23 ottobre ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre e replica domenica 25 ottobre alle ore 14 e 30, una puntata dedicata interamente al turismo, cercheremo di trarre un po' di trarre le conclusioni, di capire come è andata questa stagione estiva, ma vogliamo proiettarci avanti, vogliamo vedere come fare turismo a Taranto, quali sono le criticità, come si comporta la classe politica, vogliamo denunciare ma vogliamo anche costruire e lo faremo con esperti del settore, con persone, potremmo dire le persone giuste al posto giusto, settore per settore. E allora chi sono gli ospiti di questa puntata? Cominciare dalla padrona di casa perché questa puntata l'abbiamo registrata presso il BB Albergo Lamanna a San Vito, via San Vito, Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, un sindaco che sa fare davvero turismo e marketing territoriale, avessimo noi a Taranto, Egidio Ippolito, sindaco di Crispiano, e poi degli operatori del settore, Joseph Di Mauro, che insieme ad Anna De Vincentis sono i titolari dell'agenzia Joan Viaggi, e quindi anche visto il turismo, visto anche sotto l'aspetto proprio del saper vendere, tra virgolette, i nostri prodotti. E poi due colleghi apprezzati, due colleghi giornalisti davvero apprezzati, che hanno modo di sentire, di tastare il polso della situazione a Taranto, il rapporto della città di Taranto con i propri beni, e come si sente un giornalista tarantino rispetto ad altri colleghi non tarantini, come valorizzare le nostre risorse, laddove in molti casi è difficile, e invece è più facile magari per altre realtà del Salento. Mi riferisco a Franco Leggeri, col collega giornalista Franco Leggeri, siamo stati insieme nella tribunetta di Polifemo qualche anno fa, e poi sarà trovato giornalista che si occupa di turismo. E allora, non resta che metterci comodi in poltrona, azionare il telecomando, canale 93, Polifemo, la voce libera della città. Buona visione.